Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come entrare nella villa vulcano ma non mi riferisco direttamente a entrare nella villa vulcano e parlare con Chip e Chop, la regina e il bodyguard ma proprio entrare lì dentro, ok? quindi aprire la porta ed entrare proprio nella villa vulcano e viaggiare, esplorare, ammazzare alcuni boss, trovare parecchie cose quindi partiremo direttamente da qui al piano di Atlas e poi per il monte Gelmir sempre più avanti in questo lungo canyon ho velocizzato il video, l'ho boostato perché veramente il video dura più o meno 20 minuti ma l'ho dovuto velocizzare per non farvi annoiare intanto io vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina per non perdervi altre guide su Elden Ring mi raccomando se vi servono armi, le armi più potenti di Elden Ring sempre sul mio canale, una playlist piena di tutorial quindi sempre da questa parte fate anche attenzione all'orso che vi potrebbe anche saltare addosso e azzannarvi una volta arrivati qui mi raccomando salutate Azure perché lui veramente mi ha dato la cometa di Azure sempre interessa avere questa cometa di Azure adesso che la equipaggio, eccola qui sempre sul canale come trovare sia la cometa di Azure, il bastone, il suo potere, le ampolle e cose così perché una volta arrivati qui fate un bel salto dirigetevi qui in questo punto lì sopra mi sembra che c'è uno scudo o una spada vabbè lascio fare a voi comunque da questa parte poi ci sono delle scale quindi dobbiamo arrampicarci un bel salto una volta arrivati qui girate a sinistra c'è il ponte dobbiamo andare lì dove sta quel vortice all'accampamento c'è anche un punto di grazia quindi qua sopra c'è il nostro amico cane che ci tira la palla addosso palla di meteorite addosso quella con le corna ok eccoci arrivati andiamo a parlare con la principessina ha il suo bodyguard vi darà così una chiave poi fate anche delle missioni per lei ok grazie ok lascerà la villa vulcano buon per lei ok quindi dirigetevi da questa parte aprite questa porta questa porta entrate là dentro qui attenzione alle lumachine scendete qua sotto e proprio qui siete arrivati proprio dentro alla villa vulcano dove ci sono i boss armi scudo attenzione a questo che veramente rompe i coglioni per fortuna l'ho ammazzato in pochi secondi eccoci qua ok quindi ragazzi io grazie a tutti per questa missione se ti è stato utilissimo questo video ok se ti è stato utilissimo io ti consiglio di lasciare un like di iscriverti al canale di dare qualche sguardo alla playlist piena di video di Elden Ring che vi potrebbero servire e arricchirvi quindi grazie a tutti per questa missione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao